E' bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Adesso siamo su una mappa Vivertita a corsa 12 Sarà una bella difficoltà Come vedete ho cambiato skin Già dall'altro video Oddio Adesso Vi farò Come si dice Tipo Una roba Stavo per dire una roba pazzesca Ma in realtà non è vero Adesso Dai Dai Andiamo 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 Ciò possiamo fare Ma mia Ma mia Cristiano Ronaldo No Cristiano Ronaldo Meio Messi Ancora Messi Ancora Messi Ancora Messi Ancora Messi Siamo 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 Go 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 Dai Uppi 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 Sartellino, sartellino, un altro sartellino, un altro sartellino, un altro, e un altro e siamo arrivati al terzo livello signori, terzo o secondo. Upi, 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 upi. Oddio, oddio, so per morire, ma è in una maniera che avrei sclerato un batto. Allora concentrazione, upi, 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 upi. C'è ragazzi senza mai morire adesso cheat muoio male cheat no dai c'ho quasi non è stato un buon una buona cosa ok ragazzi ci siamo ci siamo dai 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 comunque raga io ho comprato la naruto run bellissima l'adoro questo è una cosa più da fare in prima persona ma io ve la faccio così allora qua fortuna c'è un check point eh no però è così non si fa l'avete visto l'avete visto ma l'avete visto ce lo stavo per toccare mamma mia qua ci dobbiamo un po più impegnare no era un'impressione che pensavo andavo i vasi andavano indietro 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 e wii piii e allora check point credo non so cosa si ok allora questo è già un po più difficile allora ho ovdo Impi è vedi è vedi è vedi è vedi all'epichuu ok allora dobbiamo mettere così mamma mia sto tragiardando tragiardando e ce l'abbiamo fatta allora adesso ci sono questi sterati a qua cos'è che devi fare ma perché sono morto cioè come ho fatto a morire c'è qualcuno adesso io sono morto a caso Basta adesso sclero E' ucciso tutti My Debi Sys John Cena Tu 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 Ma vi sta i pilliad Per il cu Allora pam E pam E pam Ok ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ok checkpoint Ce l'abbiamo allora Un saltino qua un saltino di qua Un saltino qua un saltino qua Un saltino qua Un saltone Un saltone Allora No ma dai Ma mi dicono ma c'è una Nuda Cioè non ce l'abbiamo visto Di preciso Perché non sono un porco Cioè guardatela Mi sembra Munda Cioè no ma Allora la vedete Oh ha detto questi come vanno Cioè ma è impossibile Mission impossible Cioè ma io come ne so Sì Sì Ecco qua E la situa La situa È difficile Aiuto Ok 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 Andiamo 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 Dobbiamo riversare Vabbè fino a là Vabbè adesso La roma La son rischiata Oddio Mamma mia Oddio Ragazzi No se arrivo là Scraero Scraero Ma Guarda Guarda È morta Tipo Ha detto un botto Di bestemmie Ha detto un botto Di bestemmie E per me c'è La raga Adoro Allora Andiamo qua Andiamo qua Andiamo qua No Non doveva finire così Ma ti denuncio Alla polizia Ti denuncio Ti denuncio Per due Per due crimini Prima quello di avermi disturbato E dopo quello Per uccidermi Su Roblox Vabbè che è questo Infame Ecc Che dire Qua è russo Cioè Qua noi Siamo tutti russi Ragazzi ma voi che guardate il collegio Scrivetemi nei commenti Se guardate il collegio Ok adesso sono io Che dico le bestemmie C'è l'ultimo Ma dai Ma guarda cosa c'è Cioè Dove poterlo fare iniziare da capo No ma vi Vi immagino Basta Basta Senchè A sto punto muoio tutte le volte E sono a posto Basta Cliccarmi sto roba Non lo voglio saltare E c'è E c'è Mamma mia Basta ragazzi Ma cagano E io mi butto qua Adesso Basta 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 Ragazzi Noi ci vediamo Nel prossimo video E Addio Noi ci vediamo 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 Noi ci vediamo